Estate quest'anno significa ripartenza. La campagna vaccinale va avanti e il virus è ostacolato anche dalle crescenti temperature e ora con le restrizioni quasi azzerate le attività commerciali puntano a rialzarsi dopo oltre un anno di sacrifici. Francavilla al mare da alcuni giorni covid free e apre le sue porte ai turisti con un calendario ricco di eventi. Francavilla da un po' di giorni anzi da settimana è covid free, non abbiamo casi positivi quindi ci riteniamo usciti da questo tunnel l'estate 2021, l'estate della ripartenza e quindi una grande estate culturale con un'offerta di tutto rilievo. Si parte dalla filosofia a mare, manifestazione per la quale riceviamo il premio della Presidenza della Repubblica ma dopo c'è tanta musica, Antonello Venditti, Gigi D'Alessio, Willy Peiote, Car Brave, c'è il Blue Bar con il Getro Tal. Insomma c'è un'offerta musicale di tutto rispetto, un'estate 2021 che segnerà appunto la ripresa perché la nostra economia, il nostro PIL è fatto di aziende turistiche, è fatto di prodotti della nostra terra quindi di agricoltura, è fatto di ristorazione, di piccolo commercio. Ebbene Francavilla vive di questo e vedrà un'estate 2021 che sarà veramente un'estate fantastica nella quale saluteremo ma da lontano però il covid. Nella vicinissima Pescara invece ieri il sindaco Masci ha firmato l'ordinanza che impone la chiusura dei locali a mezzanotte e mezza durante la settimana e a luna e mezza nei weekend. Decisione questa che ha destato non poche polemiche tra gli esercenti. Di tutt'altra filosofia è il sindaco di Francavilla Luciani che anzi provocatoriamente invita i pescaresi a tornare a vivere la notte nel comune in provincia di Chieti. Non ho apprezzato quell'ordinanza di limitazione degli orari, ripeto sempre che il covid intanto non ha orologio e dopo abbiamo la nostra esperienza. Abbiamo un'estate 2020 che abbiamo vissuto in tutta sicurezza e nel settembre 2020 non avevamo praticamente nessun picco di contagio. Quindi abbiamo già certificato di essere bravi nell'affrontare il covid nella stagione estiva. I problemi si sono riproposti dopo il capodanno, quindi in piena stagione invernale, ma oggi arriveremo a quella data con l'80% della popolazione vaccinata e quindi io mi auguro che non significa abbassare la guardia a questo, guardia sempre alto, attenzione, però mi auguro di poter vivere veramente un'estate 2021 all'insegna della spensieratezza. E va bene, venite, va con moderazione perché guardate non è che trovate Francavilla vuota, Francavilla già vive la notte e continuerà a farlo e lo continuerà a fare per tutta la stagione estiva.